Ciao, in questo video vedremo come funziona un algoritmo di divisione tra polinomi e parleremo anche della regola di Ruffini. Effettuare divisioni tra polinomi non è tanto diverso rispetto alle divisioni tra numeri che abbiamo imparato a fare alle elementari. Consideriamo per esempio la divisione 128 diviso 2. Quello che facevamo era prendere la prima parte del numero 128, vale a dire 12, e a quel punto dicevamo che il 2 stava 6 volte nel 12, ricordandoci che appunto 2 per 6 fa 12. Abbassavamo quindi l'8 e anche qui dicevamo per un motivo analogo che il 2 nell'8 ci stava 4 volte. A questo punto scrivevamo il risultato della divisione che era proprio 64, mentre il resto ottenuto era 0. Chiamavamo il 128 dividendo il 2 divisore e il risultato 64 era il quoziente. La divisione, letta diciamo al contrario, ci permetteva di dire che 128 altro non era che il prodotto tra 2 e 64. Per i polinomi vale una cosa praticamente analoga. Consideriamo la divisione 8x al cubo meno 4x più 1 diviso x meno un mezzo. Come avviene per i numeri, prendiamo una tabella di questo tipo, dove mettiamo in alto a sinistra il polinomio 8x al cubo meno 4x più 1 e di fianco a destra il polinomio x meno un mezzo. Una cosa che puoi notare è che abbiamo lasciato uno 0 tra 8x al cubo e meno 4x. Questo modo di procedere ci ricorda molto quello che facevamo ancora una volta alle elementari, quando per un dato numero ci veniva chiesto di indicare alle unità le decine, le centinaia e così via. In questo caso, anziché parlare di unità, decine e centinaia, distinguiamo termini che vengono moltiplicati per x alla 0, cioè per 1, che sono quindi quelli che chiamiamo termini noti, poi termini di primo grado, termini di secondo grado e così via. Nel nostro caso, come puoi vedere, abbiamo potuto scrivere il termine noto, che è 1, e poi il termine meno 4x. Per quanto riguarda il termine in x al quadrato, poiché esso non è presente, scriviamo 0, o se preferisci 0x al quadrato. Per finire, scriviamo il termine 8x alla terza. Quest'ultimo è proprio il termine di grado massimo del dividendo. Dividiamo quindi questo 8x al cubo per x, che è il termine massimo del divisore. Otteniamo 8x al quadrato. Moltiplichiamo 8x al quadrato per tutto il divisore, cioè per x meno un mezzo, e il risultato che otteniamo lo cambiamo di segno e lo scriviamo sotto il dividendo, rispettando l'ordine dei gradi dei termini del polinomio. Facendo la somma, ricaviamo che 8x al cubo e meno 8x al cubo si cancellano. 4x al quadrato rimane invariato perché si somma 0, mentre tutto il resto si abbassa. A questo punto si iterano i passi precedenti. Il termine di grado massimo è 4x al quadrato, che diviso per x, il termine massimo del divisore dà come risultato 4x. Dalla moltiplicazione tra 4x e x meno un mezzo, ricaviamo 4x al quadrato meno 2x, che, cambiato di segno, ci dà meno 4x al quadrato più 2x. Nuovamente effettuiamo le somme e otteniamo meno 2x più 1. Dalla divisione tra meno 2x e x ricaviamo meno 2, dalla moltiplicazione tra meno 2 e x meno un mezzo abbiamo meno 2x più 1, che, cambiato di segno, produce 2x meno 1. Stavolta la somma fornisce il resto della nostra divisione, che è 0. In maniera analoga a come facevamo per i numeri, possiamo scrivere che il nostro dividendo 8x al cubo meno 4x più 1 è dato dal prodotto tra il divisore x meno un mezzo ed il quotiente 8x al quadrato più 4x meno 2. Non sempre, però, con le divisioni troviamo resti nulli. Questo succedeva anche con i numeri, quando facevamo divisioni come ad esempio 67 diviso 3. Quello che ottenevamo da queste operazioni era un certo resto, che nel nostro caso è 1. Scrivevamo perciò che 67 valeva 3 per 22 più 1. Anche per i polinomi, che abbiamo capito sono copioni, possiamo ottenere dei resti dalle divisioni. Consideriamo infatti la seguente divisione. x alla quinta meno x alla terza più 1 diviso x alla seconda più 1. Come prima abbiamo una tabella di questo tipo. I passaggi che facciamo non cambiano. Iniziando infatti a dividere x alla quinta per x al quadrato otteniamo x alla terza. Dalla moltiplicazione cambiata di segno ricaviamo meno x alla quinta meno x alla terza che sommato a x alla quinta meno x alla terza più 1 restituisce meno 2x alla terza più 1. Continuando sempre allo stesso modo, si arriva al punto in cui la nostra procedura di divisione si arresta, dal momento che il grado del binomio resto 2x più 1, che è 1, è minore rispetto al grado del divisore che è 2. Diciamo allora che la nostra divisione ha come risultato, cioè come quoziente, il binomio x al cubo meno 2x e, come resto, il binomio 2x più 1. Seguendo una formuletta analoga a quella che avevamo visto nel caso numerico, possiamo scrivere che x alla quinta meno x al cubo più 1 è uguale ad x al quadrato più 1 che moltiplica x al cubo meno 2x più 2x più 1. Tornando alla prima divisione che abbiamo affrontato all'inizio di questo video, una cosa importante da sapere è che possiamo risolverla anche con un'altra strategia, nota come regola di Ruffini, un algoritmo pubblicato nel 1809 da Paolo Ruffini. No, non questo Paolo Ruffini, ma quest'altro Paolo Ruffini, un matematico italiano. La regola di Ruffini si può applicare solo se il polinomio divisore è un binomio del tipo x meno a, essendo a un qualunque numero reale. Capisci bene allora che la divisione che stiamo considerando si presta molto bene ad essere svolta con questa regola. Quello che facciamo è considerare una tabella di questo tipo, dove tra le due righe verticali scriviamo i coefficienti del nostro polinomio dividendo senza dimenticare di scrivere gli zeri, che sono, come detto, i coefficienti di quei termini che mancano. Nel nostro caso, infatti, lo 0 è il coefficiente di x al quadrato. Come puoi notare, tra i numeri che abbiamo scritto manca l'1. Questo, in quanto al termine noto, è riservato un posto in solitaria a destra della seconda linea verticale. In basso a sinistra, sopra la linea orizzontale, indichiamo invece l'opposto del termine noto del binomio divisore. Se quindi nel nostro caso il termine noto è meno un mezzo, andremo a scrivere un mezzo. Iniziamo quindi ad abbassare l'8. Dalla moltiplicazione 8 per un mezzo si ricava 4. Tra 0 e 4 effettuiamo una somma che dà come risultato chiaramente 4, che moltiplicato per un mezzo fa 2. Sommando meno 4 e 2 otteniamo meno 2 e considerando il prodotto tra meno 2 e un mezzo otteniamo meno 1. La somma tra 1 e meno 1 dà ovviamente 0 come risultato e questo 0 che abbiamo ricavato è il resto della divisione, proprio il resto che ci aspettavamo. Non abbiamo però ancora scritto il risultato della nostra divisione. Per farlo, come puoi intuire, ci basterà considerare i numeri che abbiamo scritto in basso. Questi non sono altro che i coefficienti di un polinomio avente grado il grado del polinomio dividendo meno 1. Dal momento che il nostro polinomio di partenza aveva grado 3, 8, 4 e meno 2 sono per quanto detto i coefficienti di un polinomio di secondo grado, precisamente del polinomio 8x al quadrato più 4x meno 2, che coincide con il risultato che avevamo trovato all'inizio svolgendo normalmente la divisione. Come hai potuto notare, questo metodo è molto rapido, ma ricorda che si può applicare solo se vale la condizione che il binomio divisore è un binomio del primo grado del tipo x meno a. Proprio perché dobbiamo attenerci a questa richiesta per poter applicare la regola di Ruffini, non avremmo potuto utilizzare questo metodo per risolvere per esempio il secondo esercizio che ti ho proposto in questo video, vale a dire la divisione x alla quinta meno x alla terza più 1 diviso x al quadrato più 1. L'ultimo esempio che affrontiamo è il seguente. Consideriamo la divisione 4x al quadrato meno 3x più 6x alla terza meno 2 diviso 1 più 2x. Possiamo procedere con la regola di Ruffini? Ad una prima occhiata sembra proprio di no, perché il binomio divisore non è del tipo x meno a, ma del tipo ax più b, con a diverso da 1. Nello specifico il valore di a è 2, mentre quello di b è 1. In questo caso l'idea è quella di moltiplicare dividendo il divisore per 1 fratto a, cioè nel nostro caso per un mezzo. Alla fine, se la nostra divisione dovesse avere un resto non nullo, dobbiamo ricordarci di moltiplicare tale il resto per a. Se quindi seguiamo questa regoletta, una volta capito che a vale 2, moltiplicando, dividendo il divisore per 1 su a, cioè per un mezzo, si ottiene che la nostra divisione diventa 2x al quadrato meno 3 mezzi x più 3x alla terza meno 1 diviso x più un mezzo. Ora il divisore è nella forma buona per applicare la regola di Ruffini, vale a dire nella forma x meno a. La cosa importante da fare prima di procedere con la regola di Ruffini è riordinare i termini del dividendo in ordine crescente di grado. Riscriviamo quindi 2x al quadrato meno 3 mezzi x più 3x alla terza meno 1 come 3x alla terza più 2x al quadrato meno 3 mezzi x meno 1 e applichiamo Ruffini. Scrivendo meno un mezzo, cioè un mezzo cambiato di segno in basso a sinistra ed effettuando tutte le somme e i prodotti allo stesso modo di come fatto nell'esercizio precedente, otteniamo che stavolta abbiamo un resto che è meno un ottavo. Se ti ricordi quanto detto all'inizio dell'esercizio, occorre però moltiplicare tale resto per 2, cioè il nostro a, per ottenere il resto della divisione dalla quale siamo partiti. Tale resto sarà dunque meno un quarto. Per quanto riguarda i numeri 3, un mezzo e meno 7 quarti, questi invece non vanno toccati e rappresentano i coefficienti del polinomio quoziente di grado 2. In definitiva, allora scriviamo che 4x al quadrato meno 3x più 6x alla terza meno 2 è uguale al prodotto tra i polinomi 3x al quadrato più un mezzo x meno 7 quarti e 1 più 2x meno un quarto. Il tempo a nostra disposizione per questo video è terminato. Come sempre, lascia un mi piace e condividi. Se il video ti è stato utile, iscriviti al canale e seguici sia su Instagram che su Facebook. Io sono Gianmarco e ti auguro buono studio.